L'intelligenza artificiale ha servizi e supporto del mercato dell'arte. Anche l'intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'arte. Nel corso del 2018 le tecnologie di intelligenza artificiale sono entrate nel mondo dell'arte e dei beni da collezione. Grande risonanza ha avuto la produzione di opere originali da parte di algoritmi, che ha registrato vendite con prezzi da capogiro. Grazie all'intelligenza artificiale però sono nati diversi strumenti in grado di rispondere alle diverse esigenze del mondo dell'arte e del suo mercato, a supporto di artisti, collezionisti e operatori del settore, ma sempre con le dovute precauzioni. Non è passato molto tempo quando il 23 ottobre 2018 presso la Casa d'Aste Cristis di Londra si è aggiudicata per 432 mila dollari l'opera di ritratto di Edmond de Bellamy, realizzata dal collettivo di artisti parigini OBSIUS. È nata dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ok, ne abbiamo parlato tantissimo ma è sempre sempre interessante. La giudicazione ha permesso di aprire una breccia del mercato dell'arte, che ha visto l'ingresso ufficiale dell'intelligenza artificiale, quale strumento in mano ad artisti a favore però di nuove modalità di creatività e quindi di collezionismo. Ma è possibile trovare altre applicazioni dell'intelligenza artificiale al mercato dell'arte? Di per sé il settore è estremamente complesso. Il mercato è considerato illiquido, dove il profitto delle opere avviene non prima di dieci anni dall'acquisto di un'opera d'arte. Attualmente sono stati solo dieci artisti considerati liquidi e rivendibili in tempi veri, tra questi immancabili le opere di Picasso, World, Kunst o Basquiat, che vengono considerati investimenti sicuri, riuscendo a generare un discreto rendimento in termini economici. Ma è qui che l'intelligenza artificiale trova spazio, non solo nel processo creativo, ma anche nello scegliere l'opera giusta, in base alle proprie preferenze, individuare falsi e perché no fare investimenti nell'arte, secondo alcuni criteri. Il mercato dell'arte è ancora sregolato, presenta delle problematiche importanti legate all'autenticità, alla manipolazione di prezzi, alla mancanza di trasparenza, che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare a risolvere così, dando nuova aria e nuove opportunità al mercato stesso. Esistono infatti soluzioni che permettono un dialogo più immediato tra artisti e art lovers, tra cui piattaforme che grazie ad algoritmi di machine learning analizzano dati storici di acquisto, visualizzazioni ed interessi artistici, per poi essere in grado di associare le preferenze dei propri utenti alle opere disponibili all'acquisto, garantendo così il contatto tra artisti e collezionisti. Un'altra applicazione che vede protagonista è la IR riguarda la possibile risoluzione del problema dei falsi, che qualche anno fa il Fine Art Expert Institute di Ginevra ha stabilito che riguarda più della metà delle opere che circolano sul mercato dell'arte. Numero significativo che ovviamente ha messo e tuttora mette in allerta i collezionisti, galleristi e case d'asta, costrette così ad affrontare spese legali sostanziose a tutela o in difesa. Per evitare tali problematiche Sotheby's ad esempio non solo offre 5 anni di garanzia per il rimborso dell'acquisto nell'eventualità che venga approvata la non autenticità dell'otto, ma nel 2016 ha acquistato la Orion Analytical, società di ricerca scientifica con esperienza nella testazione dell'autenticità di opere d'arte, diventando così la prima casa d'asta da avere nel proprio interno un'unità di conservazione e analisi. Ma il processo di verifica dell'autenticità di opere d'arte è sempre stato estremamente lungo e costoso, e che coinvolge numerosi esperti d'arte. Per questo, in Olanda, il direttore del laboratorio di arte e intelligenza artificiale, professor Ahmed Elgmal, dell'Ura Reuters University, insieme al suo team e sui ricercatori dell'Atelier for Restoration Research of Painting, ha trovato un modo per risolvere questo problema. Infatti, grazie all'utilizzo dell'AI è stato possibile rilevare l'autenticità dell'opera d'arte, senza dover intervenire direttamente sul dipinto. Invece di asportare parti dell'opera e focalizzarsi sull'analisi dei materiali, il nuovo processo è concentrato sull'analisi di immagini ad altissima risoluzione, che racchiudono al proprio interno migliaia di singoli tratti e pennellate, che caratterizzano l'opera originale, dando così vita a una vera e propria impronta digitale dell'artista. I risultati presentati dal team di Elgmal, basati sull'analisi di quasi 300 disegni autentici di Picasso, Matisse e Shell, identificando i tratti distintivi di ogni artista grazie all'applicazione di tecniche di apprendimento automatico, definito RNN, Recurrent Neural Network. Ma nonostante i risultati raggiunti, il sistema è ancora lontano dall'essere infallibile. Composizioni artistiche complesse, evoluzioni stilistiche, la presenza di possibili strati di restauro e sovraverniciature rappresentano degli ostacoli da superare. Infine, parlando di investimenti in arte, l'ultimo report di Deloitte condotto con Artactic registra che due collezionisti su tre e nove operatori del settore su dieci sostengono che la spinta all'acquisto di oggetti d'arte e da collezione arrivi dalla forte passione verso questo mondo, ma che non manca ovviamente l'attenzione al valore dell'investimento. Ecco che l'intelligenza artificiale potrebbe fare la differenza. Con ArtRights avremo la possibilità da un lato di gestire e dall'altro di avere anche l'intelligenza artificiale, dando questi servizi di previsione e di andamento del mercato. La sfida è ardua, ma come ha detto Barbara Natalia Ferri di Deloitte Italia, non si può immaginare un approccio puramente analitico, ma è certo che una combinazione di opinioni di esperti e algoritmi in grado di catturare i dati storici e previsionali può fornire un approccio più trasparente e credibile. Staremo a vedere!